Mentre la complice distraeva la vittima facendola affacciare dal balcone, l'altra la entrava in casa portando via soldi e tutto quello su cui riusciva a mettere le mani. Operazione Bad Girls, come l'hanno chiamata i carabinieri della compagnia di Seregno, arrestate due nomadi di 32 e 36 anni residenti nel paese Brianzolo, accusate di furto aggravato in concorso, in debito utilizzo di carte di debito con l'ulteriore aggravante della recidiva. Tra le vittime anziani e i due parroci di Caravaggio e di Giussano, a far scattare l'indagine è stata la denuncia proprio di quest'ultimo. Ha raccontato che i ladri, dopo aver danneggiato il portone d'ingresso dalla casa parrocchiale, erano riusciti a portare via 1000 euro in contanti, carte di credito, documenti ed effetti personali. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di individuare l'auto utilizzata per gli spostamenti, una Fiat Grande Punto Grigio utilizzata dalle due donne. Alle Bad Girls è stata contestata anche il colpo messo a segno nella chiesa di Caravaggio. Dopo essersi introdotta all'interno della casa parrocchiale, erano riuscite a portare via 2000 euro in contanti e un assegno intestato alla parrocchia. A Brugheri, invece, avevano bussato alla porta di una 89enne e mentre una tratteneva la vittima sull'uscio di casa, l'altra entrava facendo razzia. Il banco maturubato era stato usato per fare prelievi in alcuni sportelli di Monza e Brugherio e la spesa in un supermercato.